E' stato proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e lavoratori delle cinque società del gruppo Eurospin, blocco immediato dello straordinario e supplementare e si prospetta anche una giornata di sciopero. Sì, abbiamo proclamato lo stato di agitazione a livello nazionale come Filcams e CGL insieme alle altre sigle sindacali perché dopo l'ultimo incontro con il gruppo Eurospin a livello nazionale in cui l'azienda ci mostrava i 75 milioni di euro di utile solo del gruppo Eurospin Lazio, quindi nella nostra zona, Allo stesso tempo però non si apriva per niente al confronto sulle condizioni di lavoro che per noi al momento sono totalmente inaccettabili. Col Covid sono anche peggiorate, parliamo di lavoratrici e lavoratori costretti a fare supplementari e straordinari non retribuiti, addetti alle vendite a fare pulizie dei servizi igienici, non rispetto dei contratti collettivi nazionali, delle clausole flessibili ed elastiche e nell'ultimo periodo anche atteggiamenti vessatori nei confronti degli iscritti al sindacato e addirittura soprattutto nei confronti dei rappresentanti sindacali. Per tutto questo e soprattutto per il fatto che l'azienda non è in alcun modo aperta al dialogo e al confronto su queste problematiche abbiamo proclamato appunto lo stato di agitazione che già ha avuto una grande risposta a livello territoriale qui in Abruzzo, quindi già un primo passo è stato fatto. Questa sera ci sarà un'assemblea appunto delle lavoratrici e dei lavoratori di Eurospin Abruzzo, della Filcams CGL Abruzzo, per capire come andare avanti perché il prossimo step appunto, già l'abbiamo detto, sarà se l'azienda non ci chiamerà ad un incontro una giornata di sciopero.